Partecipiamo a questo sciopero per far sapere a chi ci governa che prima se ne va a casa meglio è perché la manovra finanziaria che ha posto in essere l'ultima goccia che fa traboccare il vaso della pazienza degli italiani sempre quelli che devono pagare le tasse e invece di intervenire su coloro che le evadono le tasse ne approfittano delle istituzioni e soprattutto siamo qui per ribadire in modo forte e chiaro che una delle ragioni fondamentali per cui il nostro paese non riesce a risalire la china della credibilità è a causa proprio di chi ci governa ma chi mai può venire in Italia sapendo di avere a che fare con un venditore di tappeti e mi spiace per i tappeti che sono delle cose serie che sono delle cose serie, invece un venditore di fumo, un venditore di vento, un venditore di sogni e di delusioni ecco perché noi siamo convinti che prima si sciolga questo Parlamento, prima si manda a casa Berlusconi meglio è, d'altronde l'hanno capito pure le pietre ormai che lui sta al governo non per fare gli affari del paese ma nell'eterna scelta tra andare a San Vittore che è un carcere italiano di massima sicurezza e andare a Montecitorio, preferisce andare a Montecitorio